Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il Fondo Virgo e Luca Paolo Rossi, stilista e imprenditore di successo dell'hautocultur maschile, hanno portato a Filotrano tre giorni di spettacolo, sport e conferenze, arte e musica, con l'evento il palcoscenico dei Burghi e lo spettacolo delle Made in Italy. È impegnativa, ma da un piacere è finito. Perciò sapete che la mia... io dico sempre che bisogna osare, perché a smettere, ad abbandonare i progetti, quelli sono buoni tutti. Noi abbiamo osato e abbiamo ottenuto questi tre giorni meravigliosi. È stato davvero un onore poter organizzare un evento come questo, che è semplicemente, come dire, augurale. Tre giorni dedicati all'economia del turismo e alla celebrazione del Made in Italy, con la partecipazione di numerosi e illustri ospiti. Al Teatro Cittadino, un convegno di altissimo livello sul tema arte, fascino e turismo, incontrando i fondi di investimento esteri. C'è tutta un'Italia che ha bisogno di essere semplicemente illuminata, perché il palcoscenico c'è già, basta illuminare. E questo è qualcosa di più di un esperimento? Sì, assolutamente, no, questa è già una realtà. I borghi rappresentano una parte importante del nostro patrimonio e rappresentano anche il luogo, il palcoscenico, dove per centinaia di anni si è vissuta la vita dei marchigiani, ma soprattutto si sono maturate le nostre eccellenze, artigianato, gastronomia, commercio. Per tre giorni Filotrano si è tinta di mille colori con l'orchestra sinfonica ad allettare la folla in festa, che tra gli altri ha colto il professor Vittorio Sgarbi tra i massimi esponenti dell'arte internazionale. E poi, come detto i big dell'economia internazionale, con il convegno, il palcoscenico di borghi, lo spettacolo del Made in Italy. Arte, fascino e turismo incontrano i fondi di investimento esteri. Tutto per valorizzare le capacità degli imprenditori, ottenere credibilità nazionale ed avere grande legame con i territori. Le Marche sono davvero un gioiello, un gioiello prezioso che va raccontato con le sue bellezze artistiche, storiche, culturali, paesaggistiche. Noi siamo orgogliosi della nostra appartenenza e siamo anche consapevoli delle nostre capacità e delle nostre potenzialità.